Orto in condotto in una scuola di Caltanissetta, la Gianni Rodari di via Ferdinando I con il nonno ortolano Giuseppe Gangi. Un'iniziativa che coinvolge un massiccio numero di studenti. Sì, un'ottima esperienza. Questo già siamo al nono anno, nonostante le difficoltà economiche, perché ormai da diversi anni non abbiamo più alcun contributo del Comune, ma grazie alla sensibilità della nuova dirigente e anche della precedente, Don Ordelvera. Anche quest'anno, nonostante le vicissitudini climatiche, siamo riusciti a far ripartire l'orto. Giusto stamattina i bambini hanno piantumato delle piantine, hanno fatto un'operazione che poi potrete vedere che è la pacciamatura che la facciamo con la paglia, perché è importante questo orto biologico. E ci teniamo a precisarlo perché i bambini poi quando gusteranno i prodotti che hanno piantumato si vede la differenza da un prodotto comprato normalmente a quello biologico. Cosa coltivate? Allora, noi quest'anno purtroppo non abbiamo potuto seminare alcune leguminose come le fave, i ceci, perché l'andamento climatico, come sapete, non è stato molto clemente. Però mettiamo molti tipi di ortaggi, le lattughe, le cipolle, abbiamo messo pure a volte dei cavoletti e diverse varietà, appunto, dicevo, di lattuga. Quanta passione c'è in un lavoro come questo? Questo bisogna crederci, bisogna avere veramente tanta passione perché oltre alla fatica c'è il piacere poi di vedere crescere le piante, ma soprattutto la soddisfazione maggiore è vedere i bambini che adesso hanno un approccio diverso nei confronti della verdura, perché la cosa più importante e lo scopo del progetto è quello di far capire l'importanza degli ortaggi, della verdura in genere e dei benefici che apporta alla propria salute. Devo dire che la cosa bella è essere fermati dai genitori e ringraziarti perché finalmente adesso i bambini, non tutti per sfortuna, però molti bambini adesso hanno apprezzato il vero gusto degli ortaggi.